Ciao ragazzi, Jacopo di Livitali, 30 aprile, situazione pandemia coronavirus, vi faccio un breve aggiornamento su quali sono le ultime tra l'Inghilterra, l'Italia, quelle le sapete anche voi, e un po' la situazione generale. Allora, che vi posso dire? Qua l'Inghilterra si va avanti con il lockdown, Boris Johnson dice che è tornato a lavorare, è guarito, ha avuto un figlio ieri, quindi complimenti, papà per la sesta volta. Il discorso lockdown, che dovrebbe terminare il 7 maggio, verrà rivisto, non ci sono prospettive positive per chi sperava di si riaprisse, perché il governo è estremamente cauto e titubante nel riaprire, ieri hanno detto cose del tipo ah, la Germania ha riaperto, avete visto la loro situazione, si stanno già preoccupando per un possibile secondo picco, una seconda ondata, e quindi dobbiamo stare molto attenti a rilasciare il lockdown perché andremo a perdere tutti i sacrifici, i risultati ottenuti dal lockdown che stiamo attuando ora. Quindi, per farla breve, ora come ora il governo inglese sta cagando addosso e non ha idea di riaprire. Altri aggiornamenti importanti, hanno fatto vedere delle statistiche, gli ospedali inglesi non sono mai stati, le terapie intensive eccetera, non sono mai state occupate al 100%, ho visto il massimo era il 70%. Nonostante continuo a dare numeri di morti elevati, la verità è che bisognerebbe capire quali sono i morti puramente da coronavirus e quali sono i morti da altri motivi. C'è anche un discorso, grandi critiche verso il governo, però ovviamente che non hanno dato abbastanza mascherine, non hanno testato i sanitari, non hanno difeso le persone che lavorano in ospedale con gli equipaggiamenti giusti. Altre critiche sono che hanno lasciato andare alla deriva la situazione delle case riposo, quindi moltissimi morti ci sono stati nelle case riposo e pare una grande negligenza da parte del governo nel proteggere quelli che dovevano proteggere, che sono gli anziani e i più deboli, le persone nelle case di riposo. Quindi il governo è sotto attacco da diversi fronti. Il lockdown quindi rimane com'è, che è un lockdown onestamente tollerabile, nel senso che io posso andare a correre, andare in bici, andare a fare la spesa, andare a comprare le piante per il giardino. C'è un discreto livello di tolleranza e di libertà. Si va fuori col cane, si va a fare la passeggiata. La gente ovviamente l'hanno spaventata come in Italia, come ovunque, quindi quando ti vedono che vai a correre e fare la passeggiata si allontanano, cercano di non avere contatto, perché ovviamente tutti temono questo maledetto virus. Però comunque è un lockdown tollerabile a livello di libertà, non ci hanno castrato. Purtroppo anche qua hanno parlato di contact tracing, una app simile al discorso immuni, ma è un piano globale questa reazione alla pandemia, è una reazione bene o male identica in quasi tutti i paesi. Quindi tutti chiudono, tutti suggeriscono di usare delle app per tracciare le persone malate. Tutti suggeriscono magari un discorso di rientrare alla normalità, ma graduale, quindi con delle fasi. Per quanto riguarda il lavoro, a parte ristoratori, pub, palestre, centri estetici, barbiere, eccetera, qua le fabbriche, le aziende hanno continuato a lavorare, per fortuna, chi da casa, chi nelle varie fabbriche, nei vari posti con le distanze di sicurezza. Quindi, altra cosa, gli stipendi stanno venendo pagati, a differenza che in Italia. Quindi, ne parlavo oggi con il mio amico, ha ricevuto oggi il suo stipendio, 30 aprile, gli è arrivato lo stipendio 80%, e quindi da voi dovevano arrivare casse integrazioni che a quanto pare non stanno arrivando, 600 euro arrivano a qualcuno e altri non arrivano. Che dire, non ho voglia di entrare nel discorso Italia, ho visto che ovviamente c'è tragedia totale, negozi che non possono riaprire, oppure con estreme limitazioni di tavoli, di stanze, due metri, eccetera, la polizia che si comporta in una maniera pessima, le forze dell'ordine che non hanno rispetto per i cittadini, che pagano le tasse per pagare il loro stipendio. Quindi in Italia è veramente un disastro. Qui siamo in una fase di quiete, di si va avanti, ci hanno abituato a questo lockdown soft rispetto al vostro, la gente va avanti, chi non lavora viene pagato, chi ha un business non so cosa farà, perché comunque anche qua c'è un discorso che i ristoranti pub, eccetera, che stanno chiusi, comunque le bollette le devono pagare. Sì, gli fanno dei prestiti, questi famosi prestiti da 20-25 mila sterline, però poi dopo 12 mesi c'è da cominciare a ripagarli con gli interessi. Questa è la situazione in Inghilterra. Altre cose che vi posso dire in giro per il mondo, hanno cancellato l'Octoberfest, quindi anche se la Germania è la prima a riaprire, a sembrare quella che è più intraprendente, quella più organizzata, comunque hanno annullato l'Octoberfest, che è a ottobre. Quindi tutti gli eventi di massa con più di 5 mila persone per quest'anno probabilmente non succederanno. Poi c'è la grande incognita sul discorso come si farà a viaggiare in aereo o meno, come ci si farà a spostare nei prossimi mesi quando il lockdown verranno un po' alleggeriti, se succederà. British Airways ha annunciato che taglierà 12.000 dipendenti, li farà redundant, vuol dire licenzierà. Quindi questa gente non so cosa andrà a fare. E nulla. Quindi ci sarà un bel esercito di disoccupati in tutto il mondo, e ci saranno dei governanti che dovranno anche dare delle spiegazioni, o altrimenti dovranno dare dei soldi, perché qua la gente fa un po', non ce la farà più. Ovunque. Per ora, come ho detto, si va avanti. Si vive in una situazione di libertà limitata, ma comunque tollerabile. A fronte di questo, i prossimi video che volevo fare sono video su come cambiare carriera, come reinventarsi, come provare a affrontare questa pandemia, questa crisi, perché specialmente per voi in Italia ho ricevuto molti messaggi. Persone che lavorano nel settore alberghiero, dell'ospitalità, del turismo, che non sanno cosa fare, che stanno pensando a cambiare carriera o imparare robe nuove. Una persona che ha un bar, poverino, che severamente non sa come tirare avanti, quindi sta pensando di chiudere baracca e cambiare proprio lavoro del tutto. Quindi nei miei prossimi video vorrei farli su come cambiare carriera, come pianificare un cambio di carriera in maniera intelligente e come affrontare questa situazione di estrema difficoltà che comunque peggiorerà. Quello che sta succedendo adesso non è nulla ancora. Vedrete fra un paio di mesi quando i problemi verranno a galla sul serio, quando magari i governi smetteranno di pagare poi, perché a un certo punto non è che potranno pagare gli stipendi e pagare e mantenere gente che è a casa per sempre. Quindi restate sintonizzati. Il prossimo video lo faccio su come cambiare carriera, come identificare in che tipo di carriera intraprendere, che è la cosa più difficile, quindi fare la scelta giusta, pianificarla, come formarsi su un nuovo lavoro e come poi cercare di iniziare un nuovo lavoro. Queste non saranno ricette facili, tipo gratta e vinci, nuovo lavoro, domani vado a lavorare, guadagno 2, 3 mila, 4 mila euro e sono felice. No, ci sarà da farsi il culo, ci sarà da seguire i miei consigli alla lettera e magari implementare anche consigli di altri, perché io vi posso dare il mio punto di vista, la mia esperienza e le mie conoscenze che non sono sicuramente complete al 100%. Sono il mio punto di vista di una persona che comunque vive in un mondo lavorativo diverso dal vostro e capisce i trend tecnologici e ha un minimo di polso, ma non c'è il polso comunque del mercato a livello IT, tecnologie, eccetera. Posso darvi qualche dritta dal mio punto di vista. Quindi ci vediamo al prossimo video, statevi bene, ciao!